Nella sede della sua segreteria Martina Franca, il consigliere regionale Donato Pentassuglia, anche in qualità di presidente della Commissione Ecologia, Lavori Pubblici e Trasporti, ha incontrato i giornalisti per illustrare i progetti e gli investimenti inseriti nel piano per il sud relativamente all'area ionica. Pentassuglia invita tutti i soggetti politici e istituzionali a collaborare, proprio come hanno fatto il ministro per i rapporti con le regioni Raffaele Fitto e il governatore di Puglia Niki Vendola, già prima che venissero assegnati lo scorso 28 luglio i fondi FASSA alla regione per avviare opere infrastrutturali strategiche e solo cinque giorni dopo i finanziamenti Cipe per 180 milioni di euro. Un'assunzione di responsabilità collettiva quindi al fine di canterizzare subito le opere che possono contribuire a dare slancio al turismo ed economia. Un'assunzione di responsabilità che ha visto con tenace il ministro Fitto portare avanti un'idea condivisa dalle regioni. Io ho avuto modo con il presidente Vendola di parlare di queste cose, della bozza originaria che vedeva Taranto mortificata e poi della bozza definitiva che ha visto un recupero per Taranto e l'area ionica in un contesto non solo del Salento perché io vado oltre, noi siamo pugliesi, nel sistema Puglia perché questo collegamento non solo con il sud Salento ma con la dorsale adriatica tramite la 172 o la 172 dir è un fatto per noi di fondamentale importanza. Un'attenzione sovra provinciale dunque non di campanile, questo l'appello del consigliere per spendere al meglio i fondi Cipe e da parte di politici ed amministratori. Dobbiamo rispondere come i fatti e però deve rispondere ognuno che ha responsabilità, tanto politica quando amministrativa perché molte volte funzionari e dirigenti fanno perdere la faccia alla politica, fanno perdere il territorio, non coscienti che loro sono dei cittadini e in primis loro stessi si devono mettere in discussione come lo devono fare i politici e tutti quanti. Per ciò che riguarda la Valle d'Itria, Pentasulli annuncia che la prossima settimana incontrerà il commissario prefettizio e i rappresentanti provinciali affinché i progetti preliminari per la costruzione di tre sottopassi utili ad evitare il traffico in entrate e uscita nella cittadina martinese vengano recipiti ufficializzati e che le procedure vengono avviate in tempi brevi.